Parliamo adesso di passaggio generazionale, quindi come anche la finanza e il risparmio gestito diventa necessario per chi fa impresa e quindi anche può essere un supporto alle aziende, soprattutto in un momento spesso molto critico che è quello del passaggio generazionale. Diciamo che il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da tantissime piccole e medie imprese, alcune delle quali sono per tradizione familiari ma ciò non vuol dire che la loro dimensione è ridotta, anzi e poi ne sentiremo qui un esempio, l'azienda familiare può anche essere appunto un'azienda di grandi dimensioni. Diciamo che la cultura imprenditoriale è un po' un asset che il nostro paese ha e si può rivendere anche verso l'estero perché è appunto la cultura imprenditoriale che ci ha fatto crescere negli anni precedenti e che sta dimostrando una tenuta anche molto molto forte in questo momento anche di crisi storica. Ecco perché è importante imparare a trasferirla alle generazioni successive nel momento in cui appunto avviene questo passaggio generazionale. Ci sono però degli strumenti anche a supporto della piccola e media impresa che oggi si stanno rivelando molto importanti anche per la crescita delle PMI e di questo appunto ne parleremo con i nostri relatori. Io partirei da una piccolissima statistica, un terzo delle imprese a conduzione familiare non supera il passaggio dalla seconda alla terza generazione, addirittura se si arriva dalla terza alla quarta generazione la percentuale è bassissima dal 5 al 15%. Noi abbiamo invitato appunto Emanuele Preve, Managing Director di Risogallo International perché è l'eccezione che conferma la regola in quanto può dimostrare 163 anni giusto di storia aziendale e quindi siete già alla sesta generazione. Come avete fatto? Buonasera, buongiorno a tutti. Diciamo che la nostra fortuna è stata che nel percorso dell'azienda la proprietà negli anni si è ricompattata in un'unica persona, uno o due persone. Questo ha fatto sì che in realtà non abbiamo sei generazioni di soci ma soltanto una o due, il che ovviamente ha ridotto il numero di persone interessate all'azienda e quindi ha limitato il numero di visioni e possibili conflitti interni con pagina societaria. Ecco, molto importante anche, ne parlavamo prima con l'intervista dell'equilibrio che si viene a creare anche se si è più fratelli all'interno del management perché ovviamente le visioni possono essere diverse, è importante anche definire dei ruoli ben precisi. Sì, una delle regole fondamentali è cercare di tenere separati l'azienda dalla famiglia, nel senso che nell'arco degli anni o delle esperienze ci possono essere soci che sono lavoro in azienda e soci che sono fuori dall'azienda. Questo fa sì che ci possano essere delle divergenze di opinione sul futuro dell'azienda, sulla gestione e quindi riuscire a creare una governance che tenga ben separate le due realtà, quindi che sia sia la famiglia ma abbia una voce sola unica in azienda è molto importante. E quindi dopo cercare anche di salvaguardare tutti gli aspetti di essere socio dell'azienda, quindi tutte le cose positive che possono essere partecipare attivamente all'azienda. Quali sono stati gli snodi fondamentali della storia imprenditoriale della vostra famiglia? Ma allora diciamo che negli anni, tornando anche agli inizi del Novecento, è stato sicuramente lo sviluppo del brand che ai tempi quando lavoravano ancora appuntamente nati si vendeva tutto in sacchi e con vari tipi di riso diversi. Mio nonno ebbe questa intuizione in Argentina perché noi avevamo un'azienda anche in Argentina e ebbe questa intuizione di creare un marchio e nasce così il risogallo. Quella sicuramente è stata una delle parti fondamentali per il successo dell'azienda. C'è stato anche un voler fissare delle regole appunto per definire il passaggio generazionale o ogni volta si è deciso a seconda anche del contesto storico? Ma allora diciamo che in passato probabilmente è stata vissuta in modo abbastanza relativamente tranquillo. Noi una cosa che ci ha aiutato molto anche è stata che avevamo dei soci fin dall'inizio, quindi l'avere dei soci ha fatto sì che la famiglia rimanesse unita in molte scelte. L'altra considerazione è che mio padre ha avuto una brutta esperienza, lui è stato cacciato via dall'azienda, dai suoi fratelli e questo ha fatto sì che ha creato in noi la volontà di creare un patto di famiglia con delle regole precise che dovrebbe aiutarci ad andare avanti e a seguire le prossime generazioni. Quindi è stato anche lungimirante. Sì, visto quel che ha passato. Ecco io che sono sempre amante dei dati e delle statistiche, c'è una recente ricerca di Finance Explorer che dice che il 95% degli italiani non si interessa alla successione del proprio patrimonio. Questa percentuale sale leggermente quando si parla di imprenditori perché sale al 30% però rimane ancora molto bassa considerando che invece in Europa il 50% dei cittadini ha già affrontato il problema. Quindi è ancora più importante quando si ha a che fare con un patrimonio imprenditoriale così grande. Sì, ed è un tema molto rilevante perché spesso l'imprenditore non vuole pensare a questo problema, quindi non ha l'attenzione perché pensa che i figli andranno sempre d'accordo, che andrà tutto bene, che l'azienda andrà bene e quindi non lo vede come un problema da affrontare. È proprio un problema mentale. Come dicevo prima, mi è arrivata una statistica dove dice che il 23% delle aziende familiari è governata da un imprenditore che ha più di 70 anni. Questo anche non aiuta nello sviluppo dei discendenti, dei figli a prendere responsabilità e quindi affrontare questo tema. Ecco, volevo sentire il parere di Francesco Zornio di Clean B&B, se vuoi prendere il microfono. Il primo property manager quotato in borsa. Ecco, quando si parla di gestione patrimoniale, di successione patrimoniale, si trascura un aspetto molto importante che è anche quello della gestione immobiliare, dei propri immobili che fanno parte ovviamente anche del proprio patrimonio. In questo caso quanto diventa importante anche il ruolo del property manager? Ti ringrazio, lo spunto è veramente molto centrato perché noi ci occupiamo di gestione di immobili negli affitti di breve periodo, quelli di Airbnb per intendersi, quindi gestiamo immobili per locazioni molto brevi, due, tre giorni, quattro giorni e interveniamo su immobili che normalmente resterebbero sfitti, quindi sostituiamo il proprietario mettendo a reddito delle proprietà immobiliari che altrimenti resterebbero improduttive. Ecco, stiamo notando che l'imprenditore italiano, sia a livello societario sia a livello personale, nel tempo ha tipicamente differenziato molto i propri investimenti, non solo nell'azienda ma in patrimonio immobiliare. È una caratteristica tipica dell'impeditoria italiana, quello di non solo avere un patrimonio immobiliare di famiglia ma investire in immobili. Beh, questi immobili spesso, noi lo vediamo, restano vuoti, improduttivi. Vuoi perché l'affitto lungo non è un'opzione interessante, vuoi perché c'è l'intenzione di venderli ma come sappiamo non è mai il momento giusto e diventano un motivo di distrazione, cioè concettivamente un immobile sfitto è un costo importante per l'imprenditore. Ecco, quello che abbiamo notato è che l'affitto breve offre una soluzione veramente interessante che permette al proprietario di immobili o all'azienda proprietaria di immobili di trasformare un costo in un reddito con un orizzonte temporale breve perché noi facciamo gestioni di 12 mesi quindi si può sempre vendere, si può sempre utilizzare l'immobile senza però distrarre il proprietario in alcun modo dalla sua attività imprenditoriale. Quindi il ruolo del property manager come il partner che dice agli immobili ci penso io, per te diventano un reddito e tu puoi avere un focus sulla tua attività è un valore che sta emergendo in modo molto forte ma negli ultimi mesi. Ecco, è una cosa che secondo me avrà un discreto futuro e non solo a Milano dove è partita ma in tutta Italia. Lei ha anche esperienza nel venture capital, aveva anche lanciato l'acceleratore Seed Money per sostenere le imprese nella fase early stage. Qual è l'esigenza principale appunto delle piccole imprese, delle start up che nascono e si devono confrontare con un contesto sempre più globalizzato? Sicuramente l'esigenza di denari che sembrerà banale ma c'è sempre e sappiamo che il sistema bancario è meno propenso a intervenire in questo senso è un'esigenza di competenze, cioè quello che ci viene chiesto, io ho investito in tante società anche molto diverse da quello di cui mi occupo, è proprio un supporto di competenze nell'esplorare un mercato internazionale, nel fare un'operazione di M&A su nuovi soci, nello sfruttare strumenti come il crowdfunding, di cui parlerà magari successivamente Tommaso, che sono opportunità molto nuove. Quindi si sta cercando un socio che non abbia tanto interesse a entrare nella governance della società, io prendo per esempio posizioni di strettissima minoranza e così anche i nostri soci, ma può portare un supporto nell'identificare e lavorare sugli strumenti completamente diversi o su dei canali commerciali che prima non erano necessari, ma adesso lo sono. Ecco, diverse decine e migliaia di imprese negli ultimi anni purtroppo sono state costrette a chiudere per difficoltà di accesso al credito, pensate che dal 2011 al 2019 la stretta creditizia è sempre più aumentata, nel 2018 sono calate del 6,4% i prestiti bancari rispetto al 2017, diventa sempre più importante per le imprese soprattutto di piccola dimensione un accesso al credito alternativo. Ecco, volevo chiedere a Luca Anzola come si sta muovendo in questo settore, Fideuram e investimenti. Sì, intanto buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo cominciato nel 2016 a sviluppare delle soluzioni che si pongono chiaramente nell'ottica dell'investitore, quindi nei confronti dell'azienda noi siamo investitori attraverso i nostri fondi di investimento. Nel 2016 abbiamo fatto alcune considerazioni sull'attuale contesto dei tassi di interesse e cioè di un contesto che vedeva i tassi scendere sempre di più e una sempre maggiore difficoltà da parte di chi come noi investe i capitali dei clienti nel trovare delle fonti di investimento alternative a quelle tradizionali. Abbiamo messo sul tavolo una serie di iniziative, una di queste è proprio prendendo spunto da alcuni argomenti che sono stati già toccati, il passaggio generazionale che mette tante aziende nell'esigenza di trasferire la proprietà, la stretta creditizia e la necessità comunque di finanziarsi attraverso canali alternativi per la crescita. Abbiamo unito questa esigenza con la nostra esigenza di dover trovare delle soluzioni differenti per i nostri clienti e quindi abbiamo sviluppato una piattaforma che si chiama Federal Alternative Investment di prodotti e di diciamo soluzioni di investimento sui mercati privati, cioè su tutti quei mercati dove le imprese scelgono volutamente di ricorrere a fonti alternative sia per quanto riguarda l'accesso al credito, quindi si muovono dove le banche spesso non si muovono per varie ragioni, possono essere ragioni magari anche di progetti specifici, project financing o iniziative volte a finanziamenti di breve termine su acquisizioni e progetti di crescita, sia anche sul punto del private equity, quindi anche entrando in società con partecipazioni o di minoranza o di maggioranza qualificata o addirittura prendendo la proprietà delle aziende. Ed è stata un'iniziativa che ha avuto molto successo perché abbiamo lanciato quattro programmi e ad oggi abbiamo raccolto, siamo al quarto programma, abbiamo raccolto circa un miliardo e duecento milioni proprio in queste iniziative, abbiamo avuto una risposta veramente molto forte di interesse da parte della clientela che poi è una clientela che nella stragrande maggioranza dei casi è fatta proprio da imprenditori, quindi da persone che capiscono il progetto proprio perché sono direttamente coinvolti nella gestione della loro azienda in questa problematica. Quindi di fatto stiamo facendo un po' da trade union tra un'esigenza nell'economia reale e un'esigenza nel mondo degli investimenti finanziari e stiamo mettendo insieme queste due componenti. Prima si parlava della diversificazione del portafoglio, perché appunto un investitore privato dovrebbe investire in strumenti come il FAI? Beh allora noi, dico sempre quando mi fanno questa domanda, che non abbiamo inventato niente, nel senso che abbiamo preso una prassi ormai consolidata in quelle che sono le realtà con cui ci confrontiamo a livello internazionale, quindi le grandi private bank internazionali in America, in Svizzera, in vari paesi europei, già da tanto tempo inseriscono questo tipo di investimenti nel portafoglio dei clienti. Ovviamente bisogna capire che sono clienti di medio alta fascia, perché i minimi investibili sono comunque rilevanti, anche se noi li abbiamo abbassati con la nostra iniziativa, indicativamente anche supportati da una corposa letteratura scientifica, inserire un 10-15% di questo tipo di investimenti, ovviamente venendo a patti col fatto che sono investimenti che necessitano dai 7 ai 10-12 anni di tempo per poter funzionare, quindi non possono essere fatti con una logica di smobilizzo giornaliero settimanale, devono essere tenuti per questo orizzonte, ma questa componente, proprio perché ti permette di accedere a degli investimenti diversi e a lavorare nel tempo con le aziende senza avere anche l'effetto psicologico della liquidità giornaliera, del now giornaliero, hanno delle diverse leve di generazione di valore e rendono un portafoglio di asset tradizionali, si dice, più efficiente. Cosa vuol dire? Vuol dire che mediamente a parità di rendimenti ha i rischi più bassi o a parità di rischio, hai un extra rendimento che è legato al fatto che il tempo ti lavora in funzione dei rendimenti. Per semplificare, scambi i rendimenti in cambio di tempo. Richiedi chiaramente al tuo investitore un impegno importante perché lo tieni nel portafoglio investito per magari 7, 8, 9 o 10 anni, ovviamente non lo fai per tutto il suo portafoglio, ma per questa piccola componente, ma alla fine il risultato che viene fuori è un risultato di maggiore efficienza, non lo diciamo noi, ci sono decine e decine di articoli scientifici negli anni fatti dai prestigiosi istituti di ricerca che proprio dimostrano questo aspetto. Ecco, purtroppo il trasferimento di denaro da investitori istituzionali alle imprese attraverso i mercati privati è ancora ridotto rispetto alle quantità che per esempio vediamo nel mondo anglosassone. Quindi volevo sentire da Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO di Crowdfundme, come si sta evolvendo il mondo dell'equity crowdfunding e se ci sono ancora delle opportunità che l'Italia non ha saputo cogliere. Grazie, grazie mille Annalisa. Innanzitutto faccio una piccola premessa che cosa è l'equity crowdfunding. È la possibilità di dare accesso a piccoli investitori di retail, la possibilità di investire in società non quotate. Come diceva prima il dottor Astori della Consob, in Italia è stato il primo paese al mondo a regolamentare questo fenomeno, che in Italia è in forte crescita, ha ancora ampi margini di crescita, in Inghilterra e nei paesi anglosassoni è affermato ed è dalla possibilità a società di raccogliere capitali, quella fascia di capitali che è più difficile da raccogliere paradossalmente, che va dai poche centinaia di migliaia di euro fino ai pochi milioni, dove probabilmente sono ancora troppo piccole per essere bancabili, troppo piccole per essere investite da private equity. C'è qualche venture capital in Italia diciamo che stentiamo da questo punto di vista. L'equity crowdfunding dà ossigeno, come diceva prima Francesco, i capitali sono la benzina delle start-up e le PMI che servono per crescere e noi li andiamo a raccogliere da un pubblico retail, dando la possibilità a investitori di andare a diversificare il proprio portafoglio in uno strumento di rischio forse il più elevato che conosco, perché investire in start-up e PMI, start-up particolare è molto rischioso, ma con dei potenziali ritorni altrettanto elevati, come dimostra Francesco, amministratore di Clean B&B, che ha fatto una raccolta, una valutazione di premane di 400 mila euro e ha fatto una quotazione, una capitalizzazione di 12 milioni. Quindi capiamo come vi è una proporzionalità tra elevato rischio ed elevato possibile rendimento. Noi ovviamente diciamo sempre di investire una piccola parte analizzando bene le campagne del proprio portafoglio, però sono strumenti che ancora poche persone conoscono e che secondo me sono investimenti che anche se rischiosi sono virtuosi, perché si va veramente ad aiutare quella che è l'economia reale e la crescita delle nostre piccole società, che poi è il passo fisiologico precedente a quello di una quotazione in borsa. Crowdfundme stessa ha fatto un collocamento su Crowdfundme, abbiamo preso a bordo 130 soci che ci è servito poi dopo per fare una quotazione, così come Clean BNB. E però la cosa fenomenale di questi giorni, di un mese, è il regolamento ha permesso ai portali di equity crowdfunding, paradossalmente non ancora alle banche, di andare a collocare titoli di debito anche a un pubblico che personalmente chiamo semi-retail, ovvero degli investitori che identificati appunto dall'autorità possono andare a investire chip che noi abbiamo identificato intorno ai 10.000 euro minimi, in strumenti di debito, cosa che non è possibile attraverso istituti bancari finanziari tradizionali. Quindi nell'ottica dell'investimento, dello strumento che io chiamo equity crowdfunding, ma forse oggi dobbiamo chiamare crowdinvesting, si va a diversificare all'interno della piattaforma stessa, non soltanto uno verticale equity tra industries o grado di maturità della società, ma anche tra debito e equity. Ecco, molto spesso però c'è un gap, un problema anche da parte delle imprese che non riescono a sfruttare al meglio questi strumenti messi a loro disposizione, o sbaglio? È vero, diciamo che c'è il nostro costo più grande come società, come azienda e forse come anche associazione di categorie, è quello di creare educazione attorno allo strumento e far capire che esiste anche l'equity crowdfunding. Oggi per lo più lo conoscono le giovani start-up, lo conoscono gli early adopters, faccio sempre l'esempio quando esce un nuovo iPhone, si crea la fila attorno al negozio Apple, però poi dopo bisogna fare un lavoro di marketing per andare a vendere il prodotto a chi effettivamente deve spendere mille, millecento euro per comprare un telefono. Allora oggi noi stiamo facendo questo, stiamo facendo conoscere l'equity crowdfunding lato start-up e PMI, diciamo che anche qua è un circolo virtuoso, PMI di qualità che raccolgono portano investitori, investitori che non vogliono essere soltanto retail ma complementari anche investitori istituzionali che oggi ancora pochi si sono avvicinati a questo mondo ma che questo tipo di raccolta può far parte di anche un finanziamento all'impresa ben più ampio. Pensare che ci sia dietro un fondo come il fondo di Fideuram che va a investire in una PMI, fatto un finanziamento di 10 milioni, magari 5 milioni lo può raccogliere con una metodologia, 5 milioni con un'altra, magari una piattaforma di equity crowdfunding e quindi andare anche a allargare la finanza della società stessa con un'ulteriore iniezione di capitale proveniente da un'altra società. Ecco perché si parla di cifre importanti, solo il mercato dei mini bond vale 4,3 miliardi di euro su per giù. Sì, diciamo che il mercato dei mini bond, noi siamo quotati da poco in borsa, dal 25 marzo e nel nostro piano industriale non era previsto ancora il segmento mini bond perché ancora se ne parlava ma non si sapeva quando sarebbe effettivamente diventato effettivo il nuovo regolamento e ci cambia completamente le carte in tavola, le migliora perché la PMI italiana classica è più avversa, è più scusate propensa al debito rispetto che a dare parte della società fetta della torta a una compagina sociale esterna e poi dopo i tagli sono completamente diversi, stiamo parlando 3-5 milioni di raccolta media, abbiamo già una piccola pipeline di due mini bond, uno da un milione, l'altro stiamo pensando intorno ai 3 milioni e quindi sono medie completamente diverse rispetto al lato equity così come sarà anche l'investimento minimo che stiamo parlando di 10.000 euro per gli investitori retail. Voi siete già pronti per accogliere anche i mini bond? Noi oggi, letteralmente oggi abbiamo fatto distanza di integrazione per andare a poter collocare questo genere di strumento finanziario salvo ulteriori richieste dell'autorità in 45 giorni dovremmo collocare il primo, quindi incrociamo le dita. Ecco volevo chiedere a Emanuele Preve che è un po' la voce dell'imprenditoria a questo tavolo, diceva Tommaso prima questi strumenti sono abituati ad utilizzarle le start up o ovviamente le imprese early stage, per imprese familiari comunque con una storia alle spalle è difficile anche nel passaggio generazionale adeguarsi anche a una finanza che si evolve. Sì, diciamo che il nostro vantaggio è che negli anni essendo sempre andati relativamente bene e non avendo mai provveduto con le banche, in questo momento in cui le banche tendono a ridurre il credito a chi ha un rating basso viene da noi, quindi diciamo che al momento noi non abbiamo particolari necessità o esigenze e quindi ci manteniamo nel percorso canonico delle aziende industriali. Ecco quali saranno gli obiettivi anche da sviluppare con questa stessa generazione? Ma sicuramente la crescita dovrà arrivare dall'estero, dove siamo già presenti in 80 paesi ma dovrà sviluppare di più, essendo comunque l'Italia un mercato abbastanza saturo e quindi sicuramente uno sviluppo all'estero è quello che ci dovrebbe permettere la crescita. Grazie, volevo chiedere invece a Luca Anzola, questi strumenti appunto come il Fondo FAI possono per ricollegarci anche a quanto detto prima nella tavola rotonda, possono offrire un nuovo canale di investimento per ottimizzare invece dei rendimenti che non troviamo più in altre asset come quelli obbligazionari? Sì, nascono proprio con questa esigenza, per rispondere a questa esigenza, il mercato obbligazionario oggi è mediamente caro, i tassi di interesse se ci spostiamo sia per quanto riguarda la durata dei bond che per quanto riguarda il rischio di credito solo sui titoli di Stato europei sono negativi nella stragrande maggioranza dei casi, arriviamo anche all'oltre il meno 1%, quindi ogni tanto qualche conoscente, qualche amico sapendo il lavoro che faccio mi chiede ma oggi cos'è c'è di garantito come investimento di rendimento e gli dico sempre che garantita è la perdita oggi, perché comunque sul mercato obbligazionario purtroppo se ci spostiamo sulla parte a basso rischio questi sono i numeri ed è incontrovertibile e quindi la logica dell'accesso ai mercati privati e alle piccole e medie imprese ma in realtà non necessariamente, i nostri programmi tendenzialmente oggi si focalizzano su aziende che partono dai 30 milioni di fatturato, quindi comunque aziende di una certa grandezza, però non escludiamo un domani di muoverci anche sulle aziende un po' più piccole, comunque in generale servono proprio a trovare delle fonti di investimento diverse, meno soggette al ciclo economico perché quando tu hai un orizzonte di tempo di 7-8 anni il portafoglio lo puoi anche costruire in 2 o 3 anni e quindi puoi prenderti tutto il tempo per trovare le imprese, per finanziarle e per costruirlo a seconda di dove ti posizioni nel ciclo economico. Domani arriva con tutti i scongiuri del caso un rallentamento, una recessione, se tu hai un ramp up, cioè un periodo di costruzione del portafoglio di 3 anni, 4 anni, hai tutto il tempo di aspettare magari investire dopo 6 mesi, dopo 8 mesi con uno sconto rispetto alle valutazioni precedenti. Un po' si chiama vintage questa tecnica, un po' come con i vini, quando uno costruisce una cantina di vini può avere le migliori etichette ma se mette tutta la cantina sulla stessa annata e quell'annata non è buona alla fine la sua qualità media scende, invece è così diversifichi e il funzionamento è proprio quello di grazie al tempo, grazie al fatto che si richiede a chi investe tanto tempo si possono creare, si possono accendere delle leve di generazione di valore sull'investimento finanziario che i mercati tradizionali non hanno per costruzione, questo vale sia per l'investitore ma vale anche per un'azienda, pensate un'azienda quotata che deve rispondere tutti i giorni ad una comunità di investitori che guarda molto spesso la trimestrale, guarda se abbattuto non se il suo piano industriale a 5 anni funziona ma se i suoi utili nel trimestre sono migliori del trimestre precedente o migliori di quello che la comunità degli analisti finanziari ha valutato e se non è così magari fa fare un meno 3 o meno 4% al titolo oppure tendenzialmente soggetta alla volatilità legata agli eventi esogeni, io dico sempre l'effetto tweet di Trump, questa cosa sui mercati privati è molto meno evidente e questo si trasferisce anche su un portafoglio di attività finanziarie, torno a ripetere, cosa chiedi in cambio? Tempo, non è banale ma il lavoro che stiamo facendo è anche di educazione ai nostri consulenti finanziari e ai loro clienti nel capire questo aspetto che per una parte del portafoglio puoi e devi in questo contesto di mercato soprattutto scambiare il tempo con queste fonti di rendimento diverse. Volevo sapere da Luca Zornio, loro si sono, vi siete avvalsi di due strumenti di raccolta prima appunto l'equity crowdfunding come citava anche Tommaso Baldisseri Pacchetti e poi l'IPO perché appunto questa scelta di questi due strumenti e quanto siete riusciti a raccogliere? Beh certo la nostra storia è una storia di un'azienda relativamente giovane però in tre anni e mezzo noi abbiamo utilizzato il crowdfunding ben due volte, sono stati uno dei primi a utilizzarlo in assoluto e uno dei primi a utilizzarlo una seconda volta, abbiamo anche avuto accesso all'investimento di private, abbiamo fatto anche dei round di aumento di capitale riservato agli investitori privati e da ultimo la quotazione. Perché? Beh da questo panel emerge un elemento molto interessante, oggi ci sono degli strumenti fortemente innovativi ma anche fortemente accessibili, cioè la possibilità di utilizzare questi strumenti, di conoscerli è molto più ampia che in passato e ovviamente è una logica di diversificazione, ogni strumento ha il suo obiettivo, ecco il nostro obiettivo qual era? Beh lo potete capire noi gestiamo immobili di persone che non ci conoscono, di aziende che non ci conoscono. L'elemento reputazionale è fondamentale in un'azienda come la nostra, la trasparenza, l'avere un sistema di controllo di gestione, un sistema di analisi dei costi e di verifica delle transazioni, un'attenzione alla tematica tributaria fiscale, alla normativa che determina il mondo delle locazioni brevi, beh questi sono elementi che costruiscono una reputazione. Se io voglio prendere in gestione degli immobili di persone diverse da me e dei miei familiari io devo avere una reputazione elevatissima. Io so benissimo che ogni singola persona, sia esso un privato, sia esso un'azienda che mi dà in gestione un immobile, vuole capire che storia ho, vuole capire come sono stato educato come imprenditore alle regole di trasparenza e correttezza, vuole capire quanto si può fidare. Beh, avremmo potuto raccogliere più capitali in round chiusi e privati senza dover raccontare niente a nessuno di quello che siamo. Il fatto che oggi chiunque possa conoscere tutto della nostra società e tutto dei nostri piani di sviluppo e tutto dei nostri soci semplicemente andando su internet è un valore enorme per i nostri clienti. Tommaso, l'equity crowdfunding sta diventando un po' una sorta di palestra prima di arrivare all'IPO? Sì, direi che è il termine corretto. Diciamo che aprire il capitale a una pagina sociale allargata permette, come diceva Francesco, di avere dei tassi di trasparenza non indifferenti perché ovviamente un conto è gestire uno o due soci, magari anche conoscenti, però quando devo gestire una molteplicità di soci. Ricordo sempre che, faccio un secondo applauso al legislatore, il governo Monti del 2012 con il decreto crescita 2.0 ha stabilito che anche le SRL potessero emettere quote diverse, di categorie diverse. Questo ha fatto sì che se io faccio una campagna di equity crowdfunding con 200 soci, non tutti necessariamente 200 soci hanno diritto di voto in assemblea andando a ingessare quello che è forse la governance della società, ma posso dare diritto di voto soltanto a chi investe più di 10, 20, 100 mila euro oppure non dare diritto di voto in assoluto. Quindi questa è una premessa dovuta quando si parla di società d'ampio azionariato. Però avere una molteplicità di soci obbliga moralmente l'imprenditore a avere dei rapporti con questi soci, dare delle trimestrali, magari non in senso proprio strettamente contabile, ma indicatori di KPI, di come sta andando la società, avere una sezione di investor relations in modo tale che possa andare anche a chiarire alcuni dubbi. E questi sono molti passi che uno fa quando si quota su Lime e quindi se vogliamo è letteralmente una palestra, una campagna di equity crowdfunding anche come ci si propone agli investitori, ricorda molto in piccolo però quello che può essere un percorso, un roadshow verso poi dopo un listing su una borsa. Dottor Preve, avete mai pensato di potervi quotare? No, diciamo che non c'è mai stata la necessità perché noi vediamo la quotazione come parte di un progetto più ampio, quindi nel senso che c'erano investimenti o progetti da fare allora si può andare in quotazione, altrimenti non avendone bisogno al momento non è mai stata considerata. Però abbiamo visto grandi gruppi industriali familiari che hanno una sorta di reticenza nell'apertura a capitali pubblici. Sì, perché appunto nella mentalità dell'imprenditore non fa piacere avere persone in casa che facciano fare degli altri, insomma, quindi c'è questa attitudine che si preferisce mantenere tutti in casa, anche i CDA sono tendenzialmente abbastanza semplificati, quindi c'è ancora appunto legata sempre al discorso del passaggio internazionale e quindi della figura dell'imprenditore che incarna in se stesso tutto. Ecco, però nell'ottica di internazionalizzazione è anche un'ottima operazione di marketing l'IPO. Sì, volendo sì, in teoria potrebbe essere una delle possibilità. Bene, io vi ringrazio di essere stati con noi oggi, ringraziamo Emanuele Preve, Managing Director di Riso Gallo International, Luca Anzola, Head of Founder Research and Alternative Investments di Fede Euram Investimenti, Francesco Zornio, Presidente e Co-Founder di Clean B&B e Tommaso Baldistera Pacchetti, CEO e Founder di CrowdFound.me. Io vi ringrazio di averci seguiti fin qui, se avete ancora tempo magari potete lasciare una vostra dichiarazione alle telecamere delle fonti TV Su, che cosa rappresenta per voi la consulenza finanziaria e vi do appuntamento al prossimo evento delle fonti. Grazie.